All'aggiunta Celente manca ancora un assessore. Il disegnato in pectore, infatti, Luigi Mancini, consigliere eletto nella lista Alleanza per l'Italia, che dovrebbe entrare al posto del defenestrato Giancarlo Vicini, ancora non ha firmato il decreto d'incarico. Sebbene una parte della stampa dia per certa l'accettazione dell'assessorato, Mancini, di fatto, ancora assessore non è. Il sindaco, infatti, ancora non ha emesso il decreto per l'incarico d'assessore. Laddove comunque per Luigi Mancini prendesse questo posto, potrebbe avere l'incarico per le attività produttive ed il commercio. Un primo passo in avanti, dunque, per risolvere la crisi di maggioranza che ormai da più di un mese sta attanagliando il comune dell'Aquila. Una crisi che lo stesso sindaco, Massimo Cialenta, ha dichiarato di affrontare in aula, presentando prossimamente un programma di fine mandato per il prossimo anno e mezzo, e dicendosi anche pronto ad andare a casa se non avrà la maggioranza. Laddove Pierluigi Mancini accettasse questo incarico, sarebbe costretto a rinunciare al suo posto in Consiglio Comunale, come la legge prevede, e entrerebbe al suo posto il primo dei non eletti, Marco Cimoroni, 45 anni, un manager informatico di un'azienda, ritenuto comunque un uomo molto vicino a Riga, compagno di lista, al tempo delle elezioni amministrative del 2012, ma anche ex vice sindaco, oggi divenuto un nemico giurato del sindaco Massimo Cialente, dopo l'inchiesta che ha riguardato le tangenti per gli appalti sui puntellamenti, una vicenda che fece ritrovare Roberto Riga isolato da tutto il Consiglio Comunale e solo unico a pagare.